Bella a tutti ragazzi, io sono Palombo ed eccoci qua in un nuovissimo video di Fortnite A buona gana a tutti, oggi siamo in compagnia di Davide, saluta Ciao E siamo in compagnia di Filippo, aspetta, aspettate ragazzi Filippo Vai in chat di gioco Ho andato tutti in chat di gioco ragazzi, tutti in chat di gioco Filippo Ragazzi come al solito, iscrivetevi, lasciate un bel mi piace, te fate la campanella per non perdere i miei video E condividete il video con tutti i vostri amici E seguiteci su Instagram Palombo. Trazino basso, grazie Filippo non si potrà sentire perché è un problema le cuffie Sì però non è possibile che ogni volta con quelle cuffie No perché non può mettere i certi giocano, non lo so Ma perché compra le cuffie da Marocchino? No, le ha vinte a Luna Park credo Ah, ho capito, molto meglio Credo è meglio comprare quelle da Marocchino che comprare a Luna Park E abbiamo, gli avevo regalato le cuffie da 120 euro Ma le usa? Usa quelle del Babacchino Ma sì Vai raga andiamo a parco No Filippo è vivo Dove forniamo anche l'elicottero? Sì perché è una cosa Sì è illegale l'elicottero E appunto Ma Filippo non si è buttato Madonna, ma che fa Filippo? Si è buttato, ora si è buttato Ah si è buttato ora, vai Si va subito all'elicottero? Noie, ma che Prima si è buttato Ok, non c'è, non c'è nessuno Buono Ho una squadra o nessuno Nessuno Tutta Park è per noi Non è possibile mai Ma come ho più, guardati Che bello Ma direte, ma è successo di avere tutta Park? No Ma come? Raga Si deve fare almeno una, almeno una victory in queste video si deve fare No, c'è gente Ah no Ce n'è uno, ce n'è uno, ce n'è uno Ma non so, ce n'è una col Barrett Non lo faccio preso Non fatto Mi spartano nella casa No, c'è una persona E' bot E' bot Eh, però finito forse L'ha ucciso Filippo, credo No Ma è bot E' bot A me sembra una bot Sì è bot, bot, bot Però stava ballando Siamo accanto alla safe Piazzo le esche Come ho fatto a non aprire solo una casa In questa casa Ce ne sono quattro Tre Frile sono morto Praticamente Sono venite da me raga E' Dove, due persone A me Ok Ma è andato E' andato via Ecco l'è arrivata E' andato via No, mi laga Sono forti Non capisco dove sono Ucciso uno Ucciso uno No Mi uccide l'altro Venite a me raga Vi prego Raga vi prego Uno scar leggendario Piavono come il pane Vieni a me O lì ti prego Vabbè lascialo Lascialo E' botta E' botta No Filippo Ucciso Lo uccisi tutto Ucciso il team Vai Io ho un po' di mazzo Questi avevano Non avevano niente Io ne ho facendo vita 100 scudo Lasciatemi loot Perché non c'è niente Io Ma chi aveva le Filippo Ma voi quante chili avete? Una Io due Filippo ce n'ha una No zero No Abbiamo 4 chili in totale Io ne vedo due in totale Ah che gioco inutile Vabbè Vabbè Ragazzi vi consiglio di guardare Lo speciale 20 iscritti E' vero che siamo già Quasi a 50 Però Siamo arrivati in così tanto Proprio tempo Siamo quasi a 50 raga Che Manca l'ultimo iscritto Raga dai iscrivetevi Dai raga iscrivetevi Non sono neanche da registrare tutti gli speciali Quindi Iscrivetevi raga Entro oggi dobbiamo arrivare a 50 iscritti Traietta blu Anche se non vi serve Chi la vuole c'è una mitraietta verde Non so se vi serve No no Infatti lo sapevo Il mio un era bot E l'altro invece no No il mio era bot Bot parecchio bot Eh no No il mio invece ma fatto Ma l'ha lasciato con 60 di vita E poi l'altro era proprio bot Sparava a sorte Era scarso quanto la fam Bello Vabbè la safe è vicina vai Io vorrei la k però Quindi Ora noi abbiamo l'elicottero Non lo scordiamo Non ci serve scordare l'elicottero Perché se si scorda l'elicottero Io andrei Ok andiamo Venite Aspetta prendo Ma voi che pompa avete? Io ho tattico Oggi aspetta Sì sì Ho trovato un tacco verde? Buono Dopo mi potrei dare un po' di colpi pompa? Eh anche io quelli vorrei Vieni Io mi carico le armi Ok Dopo anche i colpi della R mi servono Filippo c'è una tanti i colpi Andiamo qua a lutare dai No andiamo qui in safe Tanto All'agency No 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 Ma io voglio stare un po' in audio Andiamo Andiamo A tutte le airdrop della partita Va bene Andiamo alle airdrop Quella airdrop è nostra Se qualcuno la prova a prendere Non di voi In senso degli altri Se li provano a prendere Se la provano a prendere Vengono azzerati No non parte di solo che facciano gli alberi Così E quando fanno danno all'aereo No ho preso danno da caduta Te ce l'hai un meditito lì? Sì però perché faccio tanto poco No non ha preso poco Non ha preso poco dai Oli ti prego Ho 70 di vita Dai Oli via Dai Oli vieni Dai ma che dai su Ma pochissimo Vieni No dai ti prego Oli Ciao No Dai vieni su Non sentere Ti lagga Altri airdrop Non vedo nient'altro Dai Oli Me lo puoi dare ti prego Allora andiamo a Pantano No Si di che full No Andiamo che pescara No 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 Stiamo in avia Stiamo in avia Tanto Ehi Ehi drop Ehi drop Dove? Di me un'altra ehi drop Due Ehi drop ci sono vai Andiamo a prendere quella Davanti a noi Ok Tanto dopo pesca Troverò un flopper Non spreco il medit Però prendo il flopper Ora devo scendere Con calma Dai Oli Me lo puoi dare? Ragazzi scusate Sto facendo un parcheggio brutto Devo rimettermi meglio Ok Fatto il parcheggio Tornare giù l'elicottero Me lo puoi dare allora Oli? Oli allora? Pesca tanto Ah è vero dai Ma le bende però Non posso Mi sto facendo così Ma lo spieghi Cioè Ne sono fatto una o 75 Però Vai Ok Scar Ho questo prendi Vai Io non so se tenerlo però Venite Oh Vai fatto Io c'è il tevito Cento scudo raga All'altro airdrop L'hanno preso Ok Andiamo in safe 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 E poi si vedete Tutto la parola L'elicottero è spettacolare Vabbè Cioè Se si continua ad andare Ma non ci sono altri Elicotteri Mi sembra strano Boh Forse si vedrà No Oli te quanti colpiai Del pompeio 3 Io sei di 15 Filippo quanti ne avrà Tanti Eh lui c'è n'a tanti Ma Filippo dove? Ma Filippo non c'è Ma Filippo non c'è Ma Filippo non c'è Madonna Filippo Si stava andando via Ora io ho sparato un pochino Dopo colpi della R Aspetta Coraggio Ho stato abbandonato Ma io l'ho visto Che da sopra però Che anch'io È caduto Eh ma ho fatto Non prendere danno Voi sarà coraggio Ha preso un sacco di danno Tanto ce lo sparavende Vieni Ho colpi terre E pompa Colpi pompa Filippo Colpi pompa Filippo colpi pompa Filippo colpi pompa Oli Pasi un secondo da di là Di là che lo dico Filippo Filippo ci servono colpi pompa Via Corri Vieni Davide Sali Filippo Atterrata Passo Però Puttana Maglio Ma dove ho messo i colpi Io sto scappando Non l'acerato Sono morto Lo l'acerato Lo l'ho tolto È un po' un sogno È solo perché sono andato di là No No ma Filippo Non deve parlare dai Sì ma se Se Filippo non parla Non ci si può dire niente Niente Mi voglio animare È La scheda Da me e Filippo Fuori safe No ce n'è Fuori safe Una dentro Eh ma ce n'è una dentro safe Guarda guarda la mappa Ma le schedine sono fuori safe Gente via Eh lo scavo dai prova C'è due mechie No non posso morire Dai scade Oli Eh ci potrei morire Poi non ci arrivo laggiù Elicottero Sotto di te Vai a prendere l'aiderop Vabbè Ci stanno già andati loro No non posso Troppo rischioso La mia finisce tra due Uno Finirà Gente con l'elicottero Dai solo puoi vincere Non andare fuori safe Non andare fuori safe No sono andato a bordo Safe Attento attento Sì sì Ma ti lagga Oli No no ma sono fermo eh Voglio stare fermo Io vado con la safe Metto così Aspetto con la safe E parta E si parte Dai lei C'è questa partita Se non ti distruggono L'elicottero C'è E' vinta Vai parti Oli Parti No Via Su No Ti hanno lasserato Ti hanno lasserato Scendi 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 Ti hanno lasserato Cadrà in acqua Ecco lo sapevo Hai uno di vita Uno Che fortuna Vabbè dai Guarda cosa c'è dentro Sta casa Niente No niente Pesca Dai pescare Dai pescare No niente Eh lì c'è delle cani da pesca Lì C'è gente pure lì Non qui eh Vai dritto Lì Non ho qualcosa marrone Tanto che pesco No niente pesco No 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 Non pesco Ma non ho neanche materiali Ci pesca O li trovi almeno uno slurfish Puoi trovare No non ho materiali Quello è il problema Devo farmare come un maiale Farmo farmo Non c'ho niente Per fortuna Avevo uno di persone Ero morto Eh appunto Perché Vabbè dai Ti è andata bene Almeno hai 30 di scudro Almeno quello Vabbè Oli Magari tanto Quando uccidi qualcuno Ti dà un sacco di materiali Quindi Oli Eh Oli se non uccido qualcuno Eccola Eccolo Gente lì Prendi la canna da pesca Prendi la canna da pesca Perché Che mi serve Per pescare Sì ma che pesco ora Siamo in 11 Ma fidati Recuperi vita E' lì eh 17 ore E' più scarico Attento che Se sotto ti hanno fatto il trick Ok no Dice un mediter Blu Niente di che Ti ha visto No Mi sa Stanno sul cellulino Se li fai cadere Fali cadere Fali cadere Vai Quello è morto No Andato in acqua No E' caduto E' caduto Lui non è caduto Oh E' morto E' morto Oh my god 22 Come 22 Ucciso Crepa Ed alto 22 Ho visto Cosa aveva Cosa aveva Questo C'era qualcosa di epico L'aug L'aug No 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 Quanti scendini c'aveva 17 milioni Prendi il nonno blu E' meglio Adesso E' Ce l'Sine sono delle spot Che ancora sono tutte Intere Quindi devi Estare attento Prova a prendere Un aidro Oh Ha preso dance lì c'è il mondo di loot 150 noi potevi fare un hs vabbè non è morto oh my god è morto vai l'hanno attirato lo sta curando lo sta curando attento lì prendi lei troppo ormai dai ma chi se ne frega di legato più pulso ok c'è il mondo di lotte oh my god oh my god ragazzi ho portato la prima vittoria regale sul canale bellissima partita come al centro scelto un bel mi piace tutta la campina che è scelto un bel mi piace io vi saluto e non ci becchiamo al prossimo video